Stiamo impegnando io, come gli altri ministri della Lega, queste ore del dopo voto a riprendere in mano, chiudere e definire tutti i dossier che erano rimasti aperti nelle settimane di campagna elettorale, quindi per quanto mi riguarda ribadisco siamo pronti ad arrivare in Consiglio dei Ministri con il decreto sicurezza bis, con l'accordo di tutti. Stiamo affinando e penso di chiuderlo entro la settimana anche il documento che riguarda le scorte. Io domani pomeriggio incontrerò i responsabili economici della Lega per anche su questo dettagliare nei tempi e nei modi le proposte fiscali che peraltro sono già in contratto di governo, che non solo sono la flat tax, sull'autonomia il dossier è già pronto. Sto programmando le attività dei prossimi mesi e dei prossimi anni perché conto che ci sia questo governo per i prossimi mesi e per i prossimi anni. Poi capisco il travaglio e le riflessioni in casa altrui. Luigi Di Maio non lo sento dopo il Whatsapp di reciproco sostegno di domenica sera. Poi sono pronto a incontri vertici, so che il Presidente del Consiglio è a Bruxelles in queste ore, non ho condizioni da porre. Conte il Presidente del Consiglio, ci mancherebbe altro che mi permettessi di commissariare qualcuno. Hanno provato a farmi litigare col Papa e non lo faccio, figurati se litigo con altri. No, le condizioni sono il rispetto del programma, che non pone Salvini, ma che tutti abbiamo sottoscritto e che gli italiani aspettano. Quindi Conte è la mia piena fiducia, non ho altre ambizioni rispetto a quello di fare quello che sto facendo e di mantenere gli impegni presi. Io penso che il voto alla Lega dato da 9 milioni di italiani domenica sia un voto di cambiamento, di stabilità e di lavoro e crescita. Quindi non ci hanno votato per aumentare l'IVA o rispettare lo zero virgola.